Neanche un mese dall'ultima interlocuzione in via Renula, Presidente. Sì, eravamo un mese fa circa dal capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Oggi andiamo dal capo di gabinetto per rappresentare nuovamente quelle che sono le nostre richieste in ordine alla grave situazione del giudice di pace. Quindi proposte ma anche proteste. Protesta certamente, abbiamo indetto come ordine degli avvocati di Roma per il 4 luglio alle ore 10 via Teulada una grande manifestazione, stanno già aderendo anche altri ordini italiani, hanno già aderito Napoli, Torino, si appresta l'Aderia e anche Milano, eccetera. Dobbiamo far sentire forte la nostra voce. La delegazione aumenta, consigliere Massimiliano Cesali, territoriale Roma e consigliere nazionale Antonino Galletti. Sì, è una battaglia, un'interlocuzione con delle richieste che già l'ordine di Apollo di Roma ha formulato da tempo. Oggi il momento è particolarmente critico e mi fa piacere che il consiglio dell'ordine abbia proseguito questa battaglia. Tra l'altro queste proteste coincidono con quella della stragrande maggioranza degli ordini perché la situazione del giudice di pace è drammatica a livello nazionale come il consiglio nazionale Forense ha più volte evidenziato.